da dove si comincia a visitare vicenza dal palladio naturalmente per esempio dal teatro olimpico architetto entrare in scena in questo teatro è un'emozione ma che cos'è è un teatro è un teatro è un monumento è l'ultima opera di palladio viene cominciata nel febbraio dell'ottanta palladio morirà nell'agosto è in qualche da un certo punto di vista del suo testamento palladio a vicenza capitolo secondo la basilica bella questa basilica ma aspettavo una chiesa invece no e invece no questo era un palazzo medievale e poi gotico che ha preso il nome di basilica semplicemente perché palladio innamorato dell'architettura romana e comunque classica si è ispirato ai libri di vitruvio ha pensato di utilizzare alcune diciamo così alcuni stilemi dell'architettura classico romana e riportarli qui in un luogo che era il luogo della amministrazione della giustizia del commercio e della vita cittadina ma com'era ai tempi la vita civile di vicenza all'epoca questo era il centro del commercio della seta cioè il nord est era il nord est anche già dal cinquecento era un po il nord est nel cinquecento è interessante allora il contesto in cui questo fortunello perché scusa palladio arriva qui come ragazzino di bottega e lo fa diventare un grande architetto e in più nasce in un contesto economico di grande sviluppo quindi è fatta palladio arriva a vicenza attorno al 1520 è un semplice apprendista scalpellino ma incontra il nobile giangiorgio trissino è un uomo strano trissino c'è un bellissimo ritratto di lui al louvre con una barba rossa un'aria terribile e trissino a b e la mente ha bisogno di un braccio trissino è un politico rivoluzionario ha comandato la rivolta contro venezia è stato mandato in esilio a roma a roma ha visto cosa stavano facendo leone decimo raffaello michelangeli grandi artisti vuole rifarlo nella sua città e ha un sogno il sogno di trasformare una piccola città di provincia in una capitale dell'architettura però bisogna di un braccio e questo braccio il giovane palladio trissino adotta palladio lo fa studiare e lui diventa un grande architetto palladio un figlio di un mugnaio che viene messo a lavorare a 13 anni una bottega di un lapicida quindi comincia lavorando con le sue mani e per tutta la vita questa esperienza di lavorare con le mani della bottega è qualcosa che lo aiuta a vincere la sua battaglia la sua architettura è stata capace di attraversare i secoli e di costituire un legame molto forte con il mondo romano e il mondo greco poi alla fine perché ci aveva questo pallino della classicità intanto per loro non era così classico come per noi per loro era una innovazione si immagini cosa vogliono dire le astronavi degli edifici palladiani bianchi un colore assoluto che atterrano sul tessuto della città poi c'è anche una ragione politica i vicentini odiano i veneziani quindi rifarsi alle radici romane della città voleva dire rifarsi a qualcosa che a venezia non c'era quindi essere diversi palladio l'uomo giusto al momento giusto diventa praticamente l'architetto di tutte le famiglie benestanti di vicenza anche perché riesce a fargli risparmiare un sacco di sghei palladio inventa e brevetta dei mattoni particolari a forma di formaggino di triangolo che composti insieme gli consentono di fare una colonna di mattoni e rivestirla con un intonaco speciale che si chiama marmorino che mischia insieme la polvere di marmo e la calce e lisciata con un ferro sembra pietra vedi per esempio questo edificio non è stato rivestito ma poteva ma poteva essere interamente rivestito di pietra bianca addirittura alcuni suoi edifici erano anche dipinti allora faceva spendere meno se tutto non veniva costruito con pietra pesante come è il caso della basilica e quindi era anche un architetto economico e per questo piaceva molto alle famiglie nobili qualcuno dice ha inventato l'architettura low cost in un certo senso si a questo palladio ma è simpatico per carità però mi sembra un gran furbone cioè lui cosa fa prende la classicità che non fa mai male è un sempreverde poi a un certo punto diventa il l'architetto dei 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 signori bene di vicenza in un momento di grande splendore economico competitività con venezia e così via e tuttora come dire rappresenta il sogno di elevazione culturale addirittura oggi degli americani ma dai storico il 6 dicembre 2010 il congresso degli stati uniti ha adottato una risoluzione che definisce il palladio padre dell'architettura americana e in effetti basta vedere la casa bianca allora perché il palladio rappresenta il loro aggancio con il mondo classico quando gli americani hanno bisogno di decidere che forma deve avere la casa del loro presidente non vogliono avere un palazzetto in stile francese o in stile inglese che era lo stile delle monarchie europee vogliono un architettura repubblicana quindi l'idea di scegliere un architettura di palladio c'è una villa veneta è anche un modo di avere un architettura repubblicana che è quella che la nuova elita americana vuole avere